Buongiorno a tutti. Oggi sono solo e saremo anche un po' più rapidi, se ce lo concedete, perché abbiamo videoconferenze e stiamo discutendo di vaccini. Allora, i tamponi, inizierei col bollettino, i tamponi molecolari sono 3.861.000, e i rapidi 2.836.000. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 31.277 tamponi. Degli 31.277 tamponi, i positivi delle ultime 24 ore sono 708. 708, che vuol dire 2,26% di incidenza percentuale di tamponi positivi sui 31.277. Delle 21 febbraio i positivi sono 319.515. I positivi di oggi sono 26.000, scusatemi, 25.618. I ricoverati totali sono 1.708, esattamente 1.700 di meno rispetto alla punta massima, che era 3.400. Quindi 1.700 letti che si sono liberati. E questi 1.708 sono così distribuiti. 1.538 in terapia intensiva, scusate, in area non critica, meno 29. E 170 in terapia intensiva. I deceduti sono 31 nelle ultime 24 ore. I dimessi 15.099. Siamo nelle ore della classificazione. Considerate che stiamo parlando di un periodo di riferimento che è la prima settimana di febbraio, per i parametri. Dobbiamo avere un'area conti di 0.71, 0.72, insomma, su quei valori lì, in linea, diciamo, con quello che è accaduto. Abbiamo una buona incidenza, perché all'incidenza siamo sotto 100 addirittura. Cioè i famosi positivi su 100.000 abitanti per settimana, se non ricordo male, noi siamo a 98 o 96. Vabbè, però sono dati assolutamente che ci confermeranno la zona gialla, per capirsi. Perché prudentemente è giusto sempre avere un minimo di cautela, visto considerato che stiamo parlando di una classificazione che ci verrà data da un ente terzo, quindi l'Istituto Superiore della Sanità, tramite il Ministero della Salute. Però, insomma, verosimilmente non avremo sconvolgimenti questa settimana con altri colori di zone. C'è preoccupazione. Questa mattina ho avuto anche uno scambio di battute. Ci siamo sentiti al telefono, ero in riunione con la dottoressa Russo, abbiamo sentito il presidente Brusaferro, ISS, Istituto Superiore della Sanità. Voi sapete che abbiamo il centro d'Italia, che ha dato vita a un altro bacino. Fino a dicembre avevamo il bacino del nord-est. Adesso il centro d'Italia è sotto pressione per una grossa infezione. Avete visto i racconti che arrivano dall'Umbria. che, peraltro, è stato chiesto anche disponibilità tramite la protezione civile di personale. Che noi diamo, se ne avessimo disponibilità, però capite che abbiamo ancora 1700 letti Covid e 170 persone in terapia intensiva. Se dovessimo liberare ancora il nostro contributo, lo vogliamo dare, insomma. Penso che il tema della solidarietà sia fondamentale. Questa fase non ce la facciamo perché siamo tirati. La partita delle varianti non è irrilevante. Ormai è assodato che la preoccupazione è riferita al tema delle varianti. E quindi si va avanti in maniera sprombattuto. Penso che domani spero di potervi portare già un primo esito delle sequenziazioni fatte su 182 campioni. Per darvi anche un valore di quanto pesino percentualmente le varianti, la famosa variante inglese, sul totale dei campioni. L'Istituto Superiore della Sanità chiede proprio una sequenziazione, come ho sempre sostenuto io, da farsi anche in maniera standardizzata, che uno sa quanti tamponi deve fare, quante varia e quante sequenziazioni deve fare. Basta, per il resto non aggiungerei altro, nel senso che l'appello ormai che diventa quasi un refrain, che è quello di non abbassare la guardia per i cittadini, di continuare a rispettare le regole. Anche perché voglio ricordare che noi qualche ricovero lo facciamo sempre. Cioè le prese in carico di nuovi infettati ci sono. Allora adesso non li vediamo perché si scarica di più di quello che si ricovera, quindi i dati sono negativi, no? Nel senso che sono buoni i dati perché sono negativi. Cioè abbiamo più dimissioni delle prese in carico, però prese in carico ne abbiamo. Quindi vuol dire che nuove infezioni ci sono. Bisogna evitare che questa diventi una predominante, il tema degli accessi sulle dimissioni, perché a quel punto vuol dire che si torna su. Basta, non aggiungerei altro. Se avete domande, prego. Pederiva, Giacomuzzo, Marchiori, Moscati. Pederiva, il gazzettino. Tu hai fatto il dito? Dopo. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ripartirei proprio dai vaccini, vista le interlocuzioni in corso. Ieri lei ci aveva lasciati con l'annuncio della richiesta di un'offerta scritta da parte del DigiFlor all'azienda produttrice, poi però è arrivata una sorta di alto là dalla Commissione europea, almeno attraverso dichiarazioni attribuite a un portavoce della stessa. secondo cui gli stati membri non possono muoversi. Giuridicamente le regioni possono aggirare questo ostacolo? Ma guarda, allora, da un punto di vista formale penso proprio di sì, che non sia un ostacolo, perché comunque le regioni sono autorizzate a comprare farmaci anche da paesi stranieri. e non c'è nessuna legge che vieti l'acquisto. Ovviamente deve essere un acquisto autorizzato. Però al di là di questo, vorrei ricordare un aspetto. Ma chi lo devo presentare? Ad esempio, tutta la partita passa attraverso il Ministero della Sanità, immagino questo. Però, prima di fare una richiesta, è bene avere, come si può dire, qualcosa di solido in mano. Come vi ho sempre detto, di proposte ne arrivano tante. Scartate quelle che sono poco sostenibili, o parlano di vaccini che non sono autorizzati, ne sono rimaste un paio, che il dottor Flor sta scandagliando in maniera più profonda. Confermo che abbiamo chiesto per iscritto che ci venga formulata una proposta scritta, quindi una base contrattuale, vedremo. Ecco, circa l'Europa... Non è arrivata, chiedo scusa, questa proposta? No, 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 no. È stata mandata ieri la richiesta. Circa l'Europa. A parte il fatto che... Allora, io vedo questo scenario, che da qui alle prossime settimane intravedo un mercato sempre più libero. Perché sto vedendo un'escalation di proposte, di contatti che ormai riguarda anche persone di seconda, terza, quarta mano che propongono di porre contatti. Che fatto 100, 80 siano bufale, milantatori e affini, ci sta. Però è pur vero che qualche linea è solida. Si legge nella stampa internazionale, mi sembra di aver capito che adesso sembra che ci sia uno sblocco di milioni di dosi rispetto a quello previsto. Immagino che questo mercato, diciamo, fra virgolette, parallelo, abbia un po' dato vita a una scossa. Perché immaginate, gli Stati membri, non è un segreto di pulcinella, immagino che molti paesi vedano sta roba e dicono, scusate, ma noi stiamo qui a centellinare il flaconcino. Il mio vicino di casa propone i vaccini alle istituzioni, non funziona così. Dall'altro l'Europa sostanzialmente sta certificando, lasciatemelo dire, di aver gestito male questa partita. Sentite, io ho visto quel comunicato che mi sembra di aver capito che era di terza o quarta mano, no? Intanto l'Europa dovrebbe parlare per atti ufficiali e non con un comunicato su un tema così. Ma vi ricordo che in quel comunicato non c'è scritto da nessuna parte che è proibito comprare vaccini. E non c'è scritto da nessuna parte che non è vero che non ci sia un mercato parallelo. C'è solo scritto che c'è una regia, però io mi sarei aspettato, ma ve lo dico col cuore in mano, mi sarei aspettato che l'Europa ci dice guardate, è proibito alla luce di questa norma. Oppure avesse detto state parlando di castronerie perché non è possibile che ci sia un mercato di vaccini. La verità è che indirettamente che ho comunicato ho fatto più chiarezza di quella che potevamo sperare. non ha parlato di proibizione e non ha neanche detto che non è vero che non ci ha un mercato parallelo. Perché ci sono degli stati membri che sicuramente stanno comprando. Purtroppo noi non abbiamo visto, poi mi zettisco, non abbiamo visto il contratto che l'Europa ha fatto con i fornitori e tantomeno con i stati membri. Per cui è in quel contratto che si capiscono molte cose, ma non è dato a sapere quale sia il contratto. Leggo oggi sulla stampa un articolo di stampa che dice che invece l'avvocatura di Palazzo Balbi ha letto quel contratto ancorché secretato per altri e ne avrebbe tratto l'ispirazione per aggirare l'ostacolo e rivolgersi al mercato extraeuropeo. Ma chi è cassito sta roba? È un articolo del Corriere del Veneto di oggi. Ma il contratto noi non possiamo proprio averlo visto. Quindi non vi state rivolgendo, non è corretto dire che vi state rivolgendo al mercato extraeuropeo appunto per bypassare questo eventuale limite comunitario nell'acquisto. Siamo sempre in Europa nelle trattative? Ci sono offerte che arrivano dall'Europa e offerte che arrivano da fuori Europa. Ma il fatto che noi abbiamo visto il contratto decisamente no. E quindi se c'è scritto sta roba io inviterei il giornalista che l'ha scritta di verificare la sua fonte. Ho riportato quello che ho detto. Sì, sì, sì. Una domanda che arriva da un'elettrice sempre in tema vaccini penso meriti un chiarimento perché come questa signora forse tanti altri dicono io sarei anche disposto a pagarmi il vaccino purché me lo facciano. possiamo chiarire che non è un problema appunto di costo ma di reperimento sul mercato delle forniture? Il problema è presto detto. L'Europa ha firmato un contratto con le ditte produttrici la prima in assoluto è stata Pfizer poi è arrivata AstraZeneca è arrivato Moderna e poi in ultima istanza AstraZeneca un contratto che da quello che è dato a sapere è un contratto d'ombrello a favore poi di una distribuzione rispetto agli stati membri dove da quello è dato a sapere l'unica fonte di fornitura l'unico canale di fornitura del vaccino avviene attraverso questo contratto europeo rispetto di essi stati membri quindi qual è quella risposta che diamo alla signora che il problema non è pagarsi il vaccino ma il problema è avere il vaccino cioè questo canale europeo ci dà oggi 50.000 dosi a settimana di Pfizer per dire 48.000 o ci dà AstraZeneca per quello che arriverà per cui siccome la capacità vaccinale è molto più impegnativa delle dosi che abbiamo se noi avessimo più dosi vaccineremo più velocemente tutto qua ma non è un problema del costo del vaccino anche se è un costo enorme ma oggi il problema è quello di averli vaccino non di pagarli una terza e ultima domanda invece relativamente alla stagione sciistica siamo in attesa di capire se arriva a questo provvedimento ponte a livello nazionale in virtù della scadenza ormai imminente il 15 febbraio del DPCM in vigore la Lombardia ha emanato un'ordinanza della governatore Fontana che dispone la riapertura degli impianti di risalita il Veneto come si comporterà? stiamo preparando l'ordinanza fermo restando che dovremo avere la conferma se si apre o no perché c'è un pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale però sapete tutto questo si deve tradurre in un provvedimento governativo cioè o in un non provvedimento governativo perché o si va a procrastinare la chiusura o non si procrastinare la chiusura a quel punto d'ufficio si va all'apertura ovviamente tutto è legato rispetto al parere del CTS alle zone gialle bisogna essere in area gialla per aprire impianti ma cosa serve l'ordinanza a quel punto? cioè se ci fosse un provvedimento governativo perché stabilisce porta in pancia le linee guida chi fa cosa come cioè nel senso che dà un minimo di ordine e di indirizzi di linee di guida che sono linee guida approvate in rifugio come ci vai la mascherina quando la porti tutta sta roba quindi gli impiantisti devono stare in attesa a giorni e non sanno ancora se possono riaprire o no? noi abbiamo il DPCM del 15 che scade però immagino che troveranno una soluzione anche perché se fosse lasciato a perdere non fosse rinnovato ci sono delle misure che dovrebbero essere recuperate in un'altra maniera di mezzo c'è anche il tema dell'apertura di impianti scivistici però insomma tu fai una domanda che è attualissima perché ne abbiamo parlato anche stamattina e in riunione quindi noi stiamo provvedendo comunque l'ordinanza comunque e poi mi zittisco io non fa forzature cioè dovesse esserci un provvedimento del governo che non proroga è impossibile è impossibile c'è chi è a campo di forzature non sa di cosa deve parla perché comunque o puoi fare una cosa o non la puoi fare non è che ti puoi cioè non siamo nella fase di riapertura di maggio dove anche la legge ci dava ragione a tirare per non restando che oggi è una grossa responsabilità anche questa con un'infezione come questa prego Giacomo Muzzo il giornale di Vicenza buongiorno tutti buongiorno presidente buongiorno tornerei sul tema della possibilità di acquistare i vaccini eventualmente se dovesse crearsi questo canale legale tutto il resto i soldi sarebbero tutti della regione dal bilancio regionale oppure non so ci sarebbe una sorta di ristoro che pensate di chiedere allo Stato come sarebbe il finanziamento ma la partita del finanziamento la dobbiamo ancora affrontare però è anche l'ultimo problema che abbiamo nel senso che qualora avremmo cioè qualora avessimo una risposta con che si tradurrà in una bozza di contratto affronteremo la questione considerate che la regione non ha problemi a intervenire finanziariamente su una partita così perché la consideriamo prioritaria dopodiché ci possono essere anche altre soluzioni ma le valuteremo a tempo debito un'altra cosa che le chiedo è se può darci un'indicazione sulla quantità di risposta al vaccino per i sanitari ha un'idea di quanti abbiano scelto di non vaccinarsi tra sanitari e infermieri perché alcune voci riportano un infermiere su due addirittura che ha preferito dobbiamo andare io ho un dato aggregato dell'adesione diciamo degli operatori del mondo della sanità ma disaggregato dove vi dico os infermieri medici lo facciamo fare riesce per oggi secondo lei sì provo a sentire perché oggi siamo tutti impegnati sul fronte di queste videoconferenze provo a sentire per il dato ce l'abbiamo si tratta solo di stare lì a smacchinare un po' e tirarlo fuori e l'ultima cosa immagino che interessa anche gli altri la conferenza stato-regione come sta andando perché si parlava di confini si aprono non si aprono e poi di cos'altro state parlando no non siamo ancora a quei livelli della discussione no stiamo parlando di vaccini in questo momento sì sì nel senso che non si è parlato dell'apertura dei confini regionali che è esattamente nel DPCM che scade il 15 quindi se scade il DPCM si liberano i confini però di mezzo c'è anche come si può dire una classificazione che sicuramente intravederà la possibilità di avere nuove zone arancioni perché considerate che alcune regioni immagino che vadano in zona arancione velocissimamente per cui la cartina tutta gialla o quasi tutta gialla della scorsa settimana si colorerà un po' di più e quindi immagino anche che il tema dell'apertura dei confini regionali non prescinde anche da questo aspetto considerate che siamo anche in un limbo perché giustamente il governo oggi dovrebbe occuparsi di attività ordinaria cioè questa ovviamente ci sono anche dei fatti straordinari come questi ma sono diciamo di salute c'è da capire un po' il timing perché se è vero che potrebbe essere potrebbe essere che il presidente del consiglio incaricato scioglia la riserva oggi verosimilmente o domani non so quando sia verosimilmente potrebbe essere che a fine settimana ci sia un governo in piedi cioè che è presente la lista e vada alle votazioni a quel punto avremo di nuovi interlocutori rispetto a questi temi per quindici e quindi c'è il lunedì giusto Marchiori media nord est sì buongiorno presidente mi riallaccio un attimo alla riapertura dei confini le regioni in tal senso potrebbero in qualche modo intervenire chiedendo la possibilità dell'apertura dei confini il Veneto in tal senso che tipo di posizione adotterebbe guarda il tema è che ormai la movimentazione mi sembra logico e chiaro che sia sotto gli occhi di tutti c'è nel senso che dire che abbiamo le strade vuote vuol dire avere problemi di vista nel senso che le strade sono piene lo sono state anche con la zona arancione diciamolo fino in fondo e anche con la zona rossa nel senso che tutto quello che è l'attività umana è stata preservata quindi in questa fase penso che tra zone gialle non sia quello il problema di aprire i confini poi c'è da capire da un punto di vista epidemiologico cosa diranno ovviamente gli esperti che noi rispettiamo intendiamoci a volte dicono cose che ci piacciono altre volte no ma noi rispettiamo però se mi chiedete la mia posizione tra aree con zone dello stesso colore giallo penso che ormai sia scontato che si possa andare verso un'apertura del confine regionale rispetto alle altre zone giustamente bisogna far tutto una serie di altri ragionamenti però insomma devono essere i tecnici a dirsi questa roba va bene per quanto riguarda i vaccini ci sono arrivate alcune richieste da parte di vari telespettatori eventualmente di istituire un conto corrente per poter effettuare delle donazioni in previsione dell'acquisto è una possibilità che la regione può prevedere oppure no non nego che abbiamo avuto più di qualche contatto anche di grandi sostenitori però in questo momento guardate siamo in una fase nella quale non bisogna creare illusioni e vi prego di scriverlo perché io vedo a volte titoli forti e anche non solo vostri io ve l'ho detto fin dal primo istante allora delle due l'una o facciamo tutto segretamente poi finisce che magari escono anche notizie strampalate visto considerate che ci vediamo tutti i giorni io ho sempre preferito dire guardate sta succedendo questo su tutte le cose vi ho sempre detto così sui tamponi in sperimentazione su nuove misure eccetera questa è una strada diciamo che per noi non nota che stiamo iniziando a intraprendere e siamo arrivati appunto alla richiesta di un'offerta se ci mandano l'offerta vi dico ragazzi questa è l'offerta adesso ci muovono se non ce la mandano vi dirò ragazzi hanno chiacchierato tanto per nulla ok l'ultima domanda questa mattina sul marciapiede all'esterno dell'abitazione dell'euro deputata Alessandra Monetti è stata lanciata una bomba carta si sente di dire qualcosa? ma assolutamente sì guardate vado condannato la mia totale solidarietà e la condanna senza sé senza ma prudenzialmente all'onorevole Moretti prudenzialmente dico che restiamo però in attesa della magistratura per capire poi il fatto di per sé comunque deve essere condannato senza senza diciamo ulteriori specificazioni no? non c'è un sé non c'è un ma perché uno butta una bomba carta che poi l'abbiamo destinata a una persona o un'altra è un fatto gravissimo se poi è destinata all'onorevole Moretti questa fase di intimidazione ha comunque tutta la mia solidarietà ma ci mancherebbe poi è prudente aspettare poi gli inquirenti per capire di cosa si trattava e capire tutta la storia ve lo dico perché poi mi sembra aver capito le notizie che non c'è certezza diciamo no mi sembra aver capito ma cioè a priori le esprimo questa solidarietà perché ci mancherebbe so cosa vuol dire essere oggetto di minacce o quant'altro dopodiché mi auguro e auguro a lei che non fosse che lei non fosse destinataria di questo di questo ordigno perché se no veramente nella gravità sarebbe ancora più grave grazie prego Moscati Nuovo Terraglio Prigioni c'era Albino poi eh ah scusa no sì sì ma io sono qui ragazzi tranquilli eh sì buongiorno presidente Moscati Nuovo Terraglio volevo chiederle ieri sera mi pare di aver intravisto o non mi ricordo se sulla 7 o sul 4 la cartina delle regioni appunto di cui aveva parlato della variante delle zone eccetera maggiormente colpite dalle varie varianti e però nel Veneto non era segnato assolutamente niente allora siccome mi ricordavo che proprio a Natale era stata fatta eh questa mh era stata isolata appunto la variante volevo sapere come mai in questi questi dati visto che lei ci parlava che domani ci sarà appunto il dottor che ci parlerà insomma o comunque aveva detto sì noi stiamo facendo sequenziazioni sulla base di 182 tamponi mandati sono abbastanza anche recenti per cui da lì capiremo quanto pesano le varianti non so che non so la tabella quale si riferisce lei può darsi che fosse no ma era proprio passata una cartina con tutte le zone tutte le varianti insomma guardate noi siamo stati i primi e se neanche una isolare il virus inglese in Veneto il 24 dicembre me lo ricordo ancora la data per cui infatti va beh comunque questa la verificheremo un'altra invece volevo chiedere una cosa riguardo alla scuola all'ipotesi che si possa prolungare l'orario siccome mi pare di aver capito che gli orari comunque le aperture dipendono dalla regione volevo sapere un suo parere ma quella è la storia di giugno? sì di giugno ma guardate io vi dico cosa penso personalmente non sono addetti ai lavori se è vero che i ragazzi hanno studiato in dad i ragazzi hanno studiato in dad nel senso che mi metto nei panni di un ragazzo che si è fatto tutto dicembre in dad per dire tutte le mattine lì a guardare sto schermo a farsi tutte le lezioni e poi gli dicono che dicembre non conta come mese si devono fare tutto giugno sinceramente non lo trovo giusto dopodiché guardate io questi sono programmi scolastici che non decidiamo noi perché vorrebbe se passasse a questo principio vuol dire che certifichiamo che la dad non è servita a nulla io parlo con dei ragazzi che mi dicono anzi che cioè si fanno ore e ore addirittura alcuni a me dicono magari l'avrete sentito voi alcuni di voi sono genitori me lo possono confermare che i ragazzi dichiarano di lavorare molto di più fra l'altro con la dad perché sono costretti a star lì a seguire invece di vedere l'insegnante in un'aula vede i ragazzi uno per uno cioè io non ho trovato ragazzi demotivati quindi far recuperare un mese perso sì ma questo non è un mese perso bene prego salma prigioni salmaso e pette no buongiorno presidente buongiorno c'è un primo caso di sindrome infantile conseguente da covid quanto vi preoccupa questa cosa guardate noi siamo sempre preoccupati di tutto considerate che io ve l'ho detto in tempo non sospetti due giorni fa che c'è questo tema dei 50.000 infettati in israele dei bimbi sappiamo che il virus è come si può dire è intelligente prende dei target sociali per età evidentemente potrebbe anche girare il suo riflettore sui più giovani per questo noi siamo preoccupati il tema delle varianti è uno perché la mutazione del virus è quella condizione che gli permette di aggredire il bimbo che prima non riusciva a aggredire con facilità e dall'altro tutto il tema di assembramenti e aggregazioni che non ci fanno dormire sono i tranquilli ovvio che si va avanti ne veniamo fuori non abbiamo una visione negativa però è pur vero che il tema dei giovani ci sta a cuore prego Albino Salmaso il mattino di Pablo Presidente buongiorno buongiorno ecco al di là di come andrà a finire la trattativa che il Veneto ha avviato con il direttore generale Flor mi pare di capire che siete riusciti a dimostrare che sul mercato esiste una quota aggiuntiva di farmaci che probabilmente nessuno sapeva come e dove dovesse essere destinata perché stando alle comunicazioni delle grandi major farmaceutiche appunto c'era una riduzione dell'offerta di prodotto e quindi una crisi nelle forniture fondamentalmente ecco come siete arrivati a questo risultato che apre una strada nuova che sembra estremamente difficile forse da concludere vista le pressioni che arrivano ecco ci dà qualche elemento in più al di là ovviamente dell'esito contrattuale su cui è un punto di domanda grande come un grattacielo allora il tema è questo noi abbiamo intanto siamo sempre stati contattati questo è fondamentale esempio giornate di ieri io vedo la posta tutti i giorni ieri in posta avevo tre offerte una per il cinese una per il russo e una per un altro vaccino autorizzato che peraltro nell'offerta nel contatto avvenuto tramite segretaria tracciava un po' le modalità dell'offerta che già stiamo seguendo per quel vaccino allora guardate noi abbiamo fatto uno scandaglio approfondito abbiamo utilizzato intanto la banca dati dell'azienda zero voi sapete che abbiamo avuto flussi paurosi con le mascherine quindi se c'è qualche improvvisato che si è inventato venditore di mascherine tipo da pivetti se c'è qualche d'uno che ha si è inventato venditore di mascherine a marzo non aveva né arte né parte guarda caso poi magari lo troviamo come venditore di vaccini quindi abbiamo scremato tutta quella parte dopo di che guardate io continuo a dire noi non facciamo questo in contraposizione con nessuno tantomeno che a livello governativo ma figuratevi cioè noi prendiamo atto che c'è questo penso che sia illuminante lo dico ancora il comunicato di ieri sera dell'Europa che per me è un mezzo è una missione di come si può dire di impotenza nel senso l'Europa non ti dice che non puoi comprarli non ti dice che non è vero che esista allora io faccio un passetto in più con voi ma le major come tu le chiamate le big pharma che producono hanno mai dichiarato che non è vero che c'è perché se no risolviamo il problema saremmo a cartellina e andiamo via mi chiedo chi li produce ad oggi dichiara che tutta questa roba è una missione in scena e non esiste oppure conferma che potrebbe esserci qualcuno che c'è gli asti vaccini diciamo in un secondo canale ufficiale ma non quello dell'Europa perché se io fossi mister Mario Rossi che produce vaccini direi scusate sta roba che leggo sento Zaia tutti i giorni che dice che hanno non può essere vera perché dalla mia fabbrica escono queste quantità e vanno lì però avete osservato che non c'è nessuna smentita quindi noi siamo in mezzo a sto mare in Burrasca e abbiamo solo un obiettivo vaccinare i Veneti e quindi perché ieri mi sono arrabbiato e sono ancora più arrabbiato oggi non si può dire che è una fuga in avanti cioè è un atto dovuto che noi dobbiamo fare verificare perché vi ripeto che io non voglio che il mio team si trovi fra sei mesi un anno che si trovano qualche familiare di qualcuno che ha perso la vita che ci venga a dire ma voi avevate la possibilità di comprare i vaccini e vaccinare il mio familiare e non lo avete fatto e quindi c'è un tema etico e anche giuridico quindi non è vero che c'è solo l'aspetto di lascia stare e non comprarli è una colpa anche non comprarli se ci sono ripeto nella totale legalità e ve lo dimostrerò i prossimi giorni che noi abbiamo seguito da giorni la totale legalità penso che nessuno abbia mai nutrito dubbi in tale proposito no però sei siccome è il paese dei social e delle leggende metropolitane tutti vogliono il vaccino il fatto che il Veneto arrivi prima degli altri probabilmente può suscitare reazioni risentite da parte di chi si vede come dire scavalcato in una corsa legittima alla tutela sanitaria che lei essendo governatore di questa ragione vuole giustamente dare agli abitanti del Veneto probabilmente penso che anche gli altri governatori tentino di raggiungere lo stesso obiettivo ma è probabile che siano stati raggiunti delle stesse offerte forse da noi sono arrivati a prima perché ci vedono sempre in prima linea della nostra storia e uno dice chi chiamiamo beh c'è Memo Zaia magari lui ha coraggio di comprarli perché vi ricordo che oggi ne parliamo ma 20 giorni fa non era proprio così semplice dire che compravvi i vaccini Presidente dicono che Arcuri forse potrebbe essere sostituito cioè non ha qualche proposta lei no guardate io non so nulla di queste robe non so niente noi teniamo rapporti costanti con il dottor Arcuri ma non so nulla non risulta questo bene se posso entrare in un terreno un po' più politico una domanda ecco Filippo potrebbe passare il testimone no beh insomma noi siamo qui per questo anche perché mi pare che i colleghi le abbiano ampiamente chiesto molto di materia sanitaria quindi visto che c'è Marco poi no lei giustamente ha detto che siamo a cavallo probabilmente del cambio di governo quindi mi permettevo di chiederle se lei si augura che alcune figure chiave vengano confermate per garantire la continuità magari in una fase così talmente delicata come quella dell'emergenza sanitaria o se invece non ritiene che ci possono essere al di là dell'assoluta discrezionalità che nella scelta dei ministri che compete al presidente al presidente della Repubblica in sintonia con il presidente incaricato come ha ricordato Draghi oggi citando l'articolo della Costituzione ecco io le chiedevo questo lei ha sentito Bonaccini che ieri è andato a colloquio con il professor Draghi e avete capito per i temi che riguardano in maniera molto più specifica l'attività delle regioni se c'è qualche un indirizzo particolare che lei ne sta a cuore oppure no Presidente Bonaccini non l'ho ancora sentito se non in videoconferenza è oggi anticipato di questo incontro e basta nel senso che non ne ha parlato per quanto riguarda la domanda lei vedrebbe bene la riconferma di alcuni o ho troppo rispetto per il presidente incaricato ad esprimere considerazioni considerate anche che una considerazione espressa da parte mia sarebbe indelicata in questa fase mi metto nei suoi panni se ritrovo un presidente di regione che comincia a dire lui sì l'altro no rischia di diventare una roba che non va bene e quindi è giusto che lui resti nella sua come si può dire sia indipendente perché lui deve formare la lista dei ministri e accompagnarli davanti al capo dello stato a votare scusatemi a giurare sulla costituzione questo lo dice no la costituzione lo farà lui farà sta lista poi sai è ancora più indelicato perché io non ho mai partecipato a un tavolo diciamo di confronto per lui non so neanche di cosa si siano parlati rispetto anche a questi temi semmai ne abbiano parlato con i partiti quindi non so nulla ecco l'ultima domanda di tipo politico mi pare che è assodato che la Lega farà parte del governo adesso qui il problema si tratta di capire se dal suo punto di vista è giusto che Matteo Salvini leader e segretario del partito ne faccia parte o se invece come giustamente ha detto un attimo fa lei si rimette al giudizio unico ed esclusivo del Presidente del Consiglio detto questo mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia portato a casa o almeno tenta di dimostrare di aver portato a casa un risultato politico di grande rilievo con questo nuovo ministero della trasformazione ecologica che dovrebbe da quello che si riesce a capire gestire gran parte dei fondi del recovery plan pare 70-80 miliardi con una modalità tutta nuova da capire ecco lei che giudizio dà di questi due aspetti sia per quanto riguarda la partecipazione della Lega che quello della partecipazione della Lega risponde alla domanda che mi è stata fatta ieri in ugual misura nel senso che non ho partecipato ai tavoli non so quali siano le intese penso che ci sia un'indipendenza dal Presidente incaricato nel fare la lista dei ministri e poi sono delle interlocuzioni con il mio partito ma che intrattiene direttamente con il Segretario che è Salvini quindi dichiarare su queste robe qua mi sembra improvvido invece rispetto al tema di questo paventato nuovo ministero non ne so nulla certo i 5 Stelle hanno un merito di aver mandato a casa un governo per cui a sondi di baruffe e di discussioni non mi sembra che adesso possano candidarsi ad essere coloro che governano questo processo certo però sai il Presidente Draghi valuterà tutte le mi sembra sempre più che si vada verso un governo di unità come lo fece il Cersei quella volta e poi stiamo a vedere cosa ne uscirà non lo so non lo so Pettinò e poi Bonet Buongiorno Presidente Buongiorno Per quanto riguarda le videoconferenze in corso sono videoconferenze anche con il governo che è ancora attualmente in carica in attesa di novità da parte di Draghi o sono solo di natura tecnica e poi in particolare appunto lei diceva che sono in corso videoconferenze riguardo i vaccini riguardano il piano che state mettendo a punto e il tema che lei sta seguendo cioè le trattative per acquisti sul mercato libero dei vaccini è stato posto e che risposte o che osservazioni e annotazioni ha avuto dagli attuali ministri del governo ancora in carico rispetto all'acquisto improprio dei vaccini il tema non è mai stato posto forse sapientemente e anche prudentemente non è mai stato posto da nessuno il tema e soprattutto alla luce della comunicazione della commissione europea di ieri sera che indirettamente conferma che c'è un mercato parallelo e indirettamente conferma che non è proibito comprare per quanto riguarda la videoconferenza in corso è la conferenza dei presidenti di regione stiamo parlando delle modalità del piano vaccinale e della distribuzione dei vaccini abbiamo fatto proprio di tecnico sulla questione appunto dei vaccini il business a questo punto dei vaccini nel mercato libero lei ritiene che ci sia una questione anche non solo contrattuale ma anche etica poi nella distribuzione nei vari paesi non sto parlando dello specifico contratto che può avere la regione Veneto ma in genere in tutti i paesi in questi business che si possono creare con intermediari delle case farmaceutiche perciò chi è privilegiato perché ha cash e può pagare confermo che il tema etico è un tema importantissimo rispetto a questo ovvio è che se la commissione europea ha firmato ma non è dato a sapere un contratto per un approvvigionamento di una quota X probabilmente non ha optato tutto quello che è sopra la quota X e quindi questo inoptato va sul mercato inevitabilmente io ho l'impressione che stia accadendo questo la regola che era stata fatta dalla commissione europea magari con degli errori così l'hanno ammesso l'ha ammesso a quanto anche la stessa commissione europea ma è un problema poi di valutazioni complessive perciò su un'organizzazione di un piano vaccini che dovrebbe essere invece pubblico e che a quel punto invece ha giochi pubblico nel pubblico con le società farmaceutiche invece c'è un giro vario che si crea con intermediari affari che si possono fare in altra maniera e perciò tutto un dibattito che si può aprire anche per paesi che hanno più difficoltà poi ad acquisire i farmaci i vaccini beh certo ovvio che nel momento in cui si va sul mercato libero chi ha i soldi riesce a provvigionarsi diciamo i lotti di questi vaccini però il tema della negoziazione concordata con gli stati doveva tenere presente c'è chi l'ha fatta sta negoziazione del surplus di produzione perché altrimenti è inevitabile che vada sul mercato libero fermo restando se questo risponde alla realtà ma ripeto anche le big pharma non si sono mai espresse rispetto a questo e questo è un altro campanello non trascurabile a questo punto servirebbero delle regole comuni a livello non so a livello europeo a livello anche internazionale su questo aspetto proprio nelle prospettive che si stanno creando in un allarme complessivo per quanto riguarda ancora la pandemia con le possibili poi varianti eccetera eccetera ma guardate io non voglio andare a scomodare l'OMS tutti gli organismi internazionali i organismi regolatori eccetera dico semplicemente che il tema è che bisogna garantire il vaccino a tutti coloro che lo vogliono questo vaccino e la mia come si può dire la mia comunità di riferimento si chiama Veneto e sono i Veneti se riuscissimo ad avere dosi ci piacerebbe realizzare un progetto di turismo covid free di imprese covid free e avere un territorio covid free che è esattamente quello che realizzeremo ma in tempi molto più dilattati con la fornitura nazionale Marco Bonet il Corriere del Veneto se si appropinqua ecco no no tranquilla grazie buongiorno allora delle domande rapidissime sempre su questo tema dei vaccini prego allora volevo capire è vero che eventualmente queste dosi supplementari andrebbero acquistate fuori dall'Unione Europea per esempio in stabilimenti in India come ha fatto la Germania o in altri luoghi è vero che alcune proposte non sono in Unione Europea però non sono neanche così distanti poi seconda domanda è vero che le aziende case farmaceutiche chiedono un acquisto di un lotto minimo di dosi che il Veneto non sarebbe in grado di sostenere cioè x milioni di dosi molto superiori a quelli che sono i nostri abitanti che quindi in questo senso magari l'Unione con altre regioni potrebbe aiutare a fare un ordine diciamo più corposo e più adeguato alle richieste delle case farmaceutiche è vero che le interlocuzioni ci dicono che alcuni ragionano per lotti importanti altri no ok poi un'altra cosa che volevo chiedere rispetto a questa cherella con l'Europa io avevo capito che in qualche modo il contratto quadro dell'Europa era legato proprio al fatto che si voleva evitare il far west proprio per la dinamica dei prezzi che ci sta nel senso che lei stessa ci ha detto che le offerte che stanno arrivando sono in qualche caso 4-5 volte superiori alcune inferiori ecco e l'Israele che viene portato da tutti ad esempio di grande efficienza nella vaccinazione ha strapagato le dosi che ha acquistato allora chiedo una domanda forse più politica il fatto che comunque le regioni e magari in un secondo tempo anche gli stati anzi neanche tanto in un secondo tempo perché la Germania l'ha già fatto comincino ad approvvigionarsi sul mercato libero non rischia di mandare in tilt la dinamica dei prezzi per cui a un certo punto i vaccini schizzano a delle cifre che diventano magari insostenibili anche proprio per il mercato del pubblico però se fosse così il pasticcio l'ha combinato l'Europa a questo punto no? perché nel momento in cui tu diventi la piattaforma contrattuale più importante che ci sia 450 milioni di abitanti ai davanti a qualsiasi multinazionale puoi porre delle condizioni visto considerato che sei il loro mercato e sei riuscito a portarlo tutto in maniera organizzata al tavolo perché l'Unione Europea non è che è andata a trattare un po' di vaccini per Bruxelles per tutta l'Unione la Commissione se è accaduto quello che sta accadendo e se sarà confermato che esiste questo mercato parallelo ma che nessuno mai ha smentito vuol dire che lì nella fase contrattuale non hanno tenuto presente questo aspetto che non è irrilevante ok un'altra cosa non c'entro che i vaccini non ho capito sul tema degli impianti quindi lei sta aspettando di fare un'ordinanza che recepisca stiamo lavorando l'ordinanza comunque la facciamo ok e aspettate che cosa non ho capito nel senso che si aspetta che non ci siano di nieghi all'apertura perché quello è il vero rischio e da Roma avete informazioni sulle tempistiche con cui guarda io penso che deve essere chiarita entro il 15 sta roba perché se no si va a marzo dopodiché l'ordinanza comunque recepisce le linee guida quelle approvate in conferenza il Veneto non prevederà limitazioni ulteriori no 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 grazie prego Salmaso ci sono altre domande su questo tema di grande interesse definiamolo così popolare le linee guida il governo probabilmente può essere che entro sabato il ministro cioè il presidente Draghi consegna la lista dei ministri però entra in carica quando riceve il via libera dalle camere quindi si va probabilmente lunedì e martedì stando da quella che allora sarà il vecchio governo che fa il provvedimento perfetto allora il governo in carica probabilmente dovrà fare un provvedimento ponte che decide esatto ecco le chiedo cioè siccome lei dice il ministero in questo momento si occupa solo degli affari correnti i tecnici i direttori generali dei ministeri hanno potestà giuridica per emanare un provvedimento analogo oppure ci vuole comunque la firma del ministro eh sì è un'ordinanza quantomeno un'ordinanza perfetto se non è un dpcm che lo fa il presidente del consiglio o se non è un decreto che lo fa il consiglio dei ministri chiaro e con questo grazie che chiudiamo arrivederci ah scusate no mi sono dimenticato giustamente me lo ricordo a Federico sani auguri a una signora Corinna Manfret 101 anni oggi Dioderzo quindi auguri al signor grazie 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 grazie